Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, siamo qui per le consuete Zed Pagelle di Milan-Lazio in questo caso. Ma che partita è stata ieri ragazzi? Allora una partita innanzitutto bellissima perché abbiamo portato a casa i tre punti con un'altra squadra molto difficile ragazzi, un'altra squadra che l'anno scorso è stata seconda in campionato, quindi in questo inizio di campionato noi stiamo affrontando tutti i match molto duri, questo era uno di quelli, l'abbiamo portato a casa con grande felicità, con grande orgoglio, con grande passione e quindi sono contentissimo di questo risultato. È abbastanza banale ma è così. Siamo a 18 punti, l'Inter poi ieri è riuscito a vincere una partita che sembrava in difficoltà per loro, poi alla fine con l'ingresso di Lautaro Martinez sono riusciti a portarla a casa e quindi siamo ancora a pari punti lì in alto alla classifica. Ma non siamo qui a parlare di quella squadra dell'altra parte del Naviglio, della seconda di Miano, ma siamo qui per parlare del Miano e per dare i voti ai nostri grandi giocatori. Com'è andata la partita comunque in generale? È iniziata un po' così così, un po' di possesso palla, diciamo che il centrocampo l'avevano un pochino più in mano loro nel primo tempo a mio avviso, mentre poi nel secondo tempo con l'ingresso in campo dopo il tè caldo c'è stata tutta un'altra partita, abbiamo assolutamente messo sotto la Lazio, sono arrivati due gol del mio pupillo Pulisic e di Okafor e hanno sistemato la situazione. C'è stato anche un gol po' annullato di Pedro nel finale che mi ha fatto un po' sobbalzare sul cadreghino, ma alla fine la partita l'abbiamo portata a casa, meritatamente, meritatamente. Ma andiamo subito a dare i voti ragazzi. Allora, Magic Mike Meignan, ho dato 6+. Tutti gli interventi che ha fatto sono stati molto semplici, in alcune situazioni mi ha fatto capire che non è il miglior Meignan dell'anno, però la sufficienza è piena, 6 più direi e spererei che facesse meglio, per come siamo abituati, ecco lui rimane un grande portiere ma ci ha abituato a delle cose pazzesche e quindi, cioè questo dal discorso che sto facendo adesso sto dicendo che Meignan è scasso, solo che a volte in alcuni tiri, mentre nella sua maggior forma vedevi dei tuffi, anche se poi la palla andava fuori, si tuffava la grande, adesso sta un po' più statico nel guardare, la palla doveva finire, quindi si vede già da questo che è un livello di forma leggermente più basso del solito, ma non mettiamo ovviamente in discussione Mike Meignan, 6 più per lui, grande Magic Mike. Calabria, allora Calabria ha dato 6 meno, non mi è piaciuto particolarmente, non lo vedo in forma, a me Calabria è un giocatore che non mi ha mai entusiasmato, in questa partita ancora meno del solito, insomma ha fatto il suo compitino, a volte era sempre in affanno nel recuperare gli attaccanti della Lazio, quindi non mi è piaciuto molto, comunque 6 meno, non è un voto grave. Stesso voto l'ho dato a Kier, anche lui praticamente 6 meno anche per lui, spesso era costetto a ripiegare, in affanno anche lui su alcune azioni della Lazio, soprattutto nel primo tempo, e poi tra l'altro una situazione, un errore subito all'inizio suo ci ha fatto veramente rischiare tantissimo e quindi meno male che Malik Chao è rimasto a riposo per i Bullse a Dortmund, ma insomma non c'è assolutamente paragone tra lui e Malik Chao, sinceramente un altro tipo di sicurezza, poi ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate. Tomori ragazzi 7, sta tornando il muro ragazzi, sta tornando il muro, Tomori sta diventando ancora il giocatore di alti livelli che abbiamo conosciuto in passato, quindi chi lo ha criticato secondo me dovrebbe masticarsi la lingua perché sta ritornando il grandissimo Tomori di un tempo, tra l'altro spesso lo vedevo anche in attacco, addirittura si è prodigato, sembrava un attaccante aggiunto in alcune situazioni, lì un po' mi ha fatto arrabbiare, gli do lo stesso 7 perché quando tu arrivi dopo una bella sgaloppata in aria non sei un attaccante, non sei un centrocampista, è meglio che magari la palla la dai a chi è libero a destra e anche a sinistra, però vabbè dai, bella la determinazione e la volontà, quindi 7 per Tomori. Ternandez, allora Ternandez molto meglio nella fase difensiva in questa partita, secondo me sta viaggiando alla metà della velocità che viaggia di solito, non so se ho detto il voto, gli ho dato comunque 6,5 di stima perché meriterebbe anche un pochino meno, comunque 6,5 per Ternandez e quindi niente sinteticamente quello che ho detto, non è il solito Teo anche se qualche volta provava a fare la solita sgruppata, ma spesso non credeva in se stesso passaggi indietro, però nella fase difensiva comunque ha assolutamente fatto, una prestazione positiva e sufficiente. Poi passiamo a Love2Cheek, il povero Love2Cheek al quale ho dato 6, la prestazione è sufficiente per mezz'ora, ha giocato, poi ha avuto l'infortunio, non so ancora cosa gli possa essere successo, spero niente di grave e niente, ha fatto una prestazione sufficiente, poi non è che ha potuto dimostrare chissà quanto perché in mezz'ora, ha fatto quello che poteva, sì, la solita presenza in campo con la sua fisicità, un giocatore dal quale credo non si possa prescindere, anche se al ventottesimo del primo tempo, a causa di questo infortunio, ha subentrato Musa, al quale ragazzo ha dato 6 al 7, Musa ha entrato, ha dato un impatto incredibile alla partita, una forza, una fisicità, una gamba veramente di alti livelli, tra l'altro ha fatto anche un bel tiro in porta, ma ha trovato un provvedel in giornata che gli ha impedito di segnare, perché sennò avrebbe anche segnato, quindi si è al 7 per Musa, grande giocatore, ricordiamo che ha 20 anni, ma sembra già un giocatore esperto, sono molto, molto contento di questo acquisto. Passiamo ad Adli, ad Adli. Allora Adli, bisogna soffermarci un attimo, perché la prestazione di E non è stata esaltante, diciamo che come voto siamo tra il 6 più il 6 e mezzo, però ragazzi a questo giocatore io do 7, mezzo punto in più per il milanismo ragazzi, per il milanismo. Adesso non vorrei paragonarlo a Tonali, perché Tonali a me mi è rimasto nel cuore un milanista come lui, ce ne sono pochi, ce ne sono stati pochi. Però ragazzi, c'è un riverbero tra l'altro nella telecamera, vediamo se accendo un'altra luce, scusate perché vediamo così, si diminuisce un po', vabbè insomma, che strano, vabbè. Mi dispiace, mi scuso in anticipo per questo riverbero che c'è, non so da dove arrivi. Comunque ragazzi, Adli non ha fatto cose eccellenti, anche se il primo gol è partito da una sua azione, quindi veramente bravo, ma il mezzo punto in più glielo devo dare assolutamente per il milanismo ragazzi. Un'esultanza anche nei gol che ci sono stati pazzeschi e quindi niente, mi piace, mi piace, io credo che Krunic abbia perso, abbia perso la, insomma, la titolarità con questo giocatore perché, no niente, ho acceso un'altra luce ma la cosa peggiora, scusatemi, vabbè, niente, non so, oggi va così. Quindi bravo Adli, 7 per lui, avanti così. Renders, un altro da 7. Ragazzi, dalla difesa fino ad arrivare all'attacco, tra l'altro ha anche sfiorato il gol con quel colpo di tacco che gli è venuto un po' male, sembrava un po' leao nella partita scorsa, vabbè, peccato, un po' sfortunato, c'è stato un tiro di Giroud non trattenuto da Provedel, poi è arrivato Adli, sì, è arrivato Renders, ha cercato, insomma, di fare il tapping vicente con il colpo di tacco gli è andata male, peccato per lui, comunque Renders veramente un giocatore totale, direi, un giocatore totale al quale effettivamente è mancato solo il gol, quindi peccato, ragazzi, peccato veramente. Ma io qua sto diventando sempre peggio, come cavolo è? Forse la telecamera scorca, non so, non capisco, vabbè, non lo so. Scusate, oggi va così, l'ho già detto altre volte, scusatemi ancora. Pulisic, il pupillo con il gol, a sette, anche per lui, già tre gol in campionato, ragazzi, veramente bravo, non ha iniziato benissimo questa partita, ma, insomma, con il gol, con la distribuzione dei palloni del secondo tempo, a me è piaciuto tantissimo, veramente un giocatore che a me fa impazzire fin dai tempi dei mondiali, per cui io ho occhi solo per lui, grandissimo Pulisic, e vai avanti così, Capitano America, sette per te, e via andare, ragazzi, e via andare. Giroud voto sei, ah, lo dimenticavo, è subentrato a Pulisic, ciucquese al trentaseriesimo del secondo tempo, al quale non ho dato voto, perché non ha fatto una prestazione così lunga, e così pesante da poterlo giudicare. Giroud voto sei meno, ragazzi, sei meno, allora, si muove bene come al solito, impegna Provedela anche in un tiro, che viene respinto, però sinceramente non mi è piaciuto particolarmente, non mi è piaciuto particolarmente, poi tra l'altro, poi quando è stato sostituito, ha avuto anche un po' di problemi con Pioli, c'è stato una, come dire, un diverbio, credo, forse al suo compleanno voleva stare dentro tutta la partita e magari trovare il gol per farsi il regalo, questo non è avvenuto, l'ha fatto un po' innervosire, per cui, per cui niente, vabbè, sei meno per lui, non è nella condizione migliore questo ragazzo ultimamente, quindi speriamo che migliori. Dal venticinquesimo del secondo tempo, è subentrato a Caffor, ecco, appena in Taffor il discorso è cambiato, veramente anche come centravanti, grandissimo Pioli a provarlo lì in questa partita, io gli ho dato 6 al 7, grandissimo gol, cioè grandissimo gol, si è fatto a trovare pronto, perché di fatto ha fatto tutto le ao, però, ragazzi, Caffor, anche lui, se non sbaglio, è già il secondo gol in campionato, per cui, grande, grande acquisto, tutti i nuovi, metterli insieme, è stata dura, ma tutti i nuovi, veramente, stanno facendo, cioè, è dura, o è stata, non lo so, per me è dura, metterli insieme ai giocatori nuovi, e Caffor è uno di questi, che però sta lasciando l'impronta a questo Milan, poi, 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 manca le ao, le ao voto 8, 8 a le ao, perché ha fatto veramente una grandissima partita, pur non avendo segnato, tra l'altro ha impegnato seriamente Provedel, con un tiro, che ha fatto una super parata, ha dato Provedel, secondo me è migliore in campo della Lazio, ha fatto una super parata, e gli è mancato solo il gol a le ao, a le ao ha dato 8, perché due assist, partita veramente al top, mi piace tantissimo le ao, vabbè, non lo scopriamo oggi, però a me, a me mi esalta, a me mi, lo dico, lo dico come i francesi che gli dicono, moi je t'aime, io dico a me mi, a me piace tantissimo, e, grande le ao, 8 per lui, 8 ragazzi, ho dato 8, Pioli, Pioli voto 7, ha messo bene insieme, i giocatori anche in questa partita, anche nei cambi, è stato veramente, bravo, ha fatto i cambi che io mi aspettavo, quindi complimenti a Pioli, e tra l'altro credo che sia stata una delle partite, che Pioli ha, come dire, gestito meglio, ecco, ha gestito meglio, quindi 7 per lui, grande Pioli, Pioli is on fire, sempre per me Pioli is on fire, grandissimo, e ieri ho dovuto addirittura bannare uno in live, perché veramente non è una roba, io non lo faccio quasi mai, perché per me, ognuno può, è libero di esprimere la propria opinione, dire quello che vuole, fino a un certo punto però, cioè ragazzi, quando tu dopo un'ora di live, non hai detto una frase, non hai scritto un commento positivo, uno, cioè basta, basta, mi dispiace, ma il troppo stroppia in ogni caso. Molto bene ragazzi, queste sono le Z pagelle, mi scuso per questa, non capisco come mai, dovrò rivedere l'impostazione del telefono, oppure rivedere un po' discorso luci, perché è un, mi rendo conto che è uno schifo, ma spero che abbiate capito, e così assorbito l'intento e la sostanza di questo video, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale, e a commentare, ditemi magari i vostri voti, sarò ben lieto di leggerli. Da Luca Zed è tutto, vi auguro una buona domenica, ci vediamo presto, e forza Milan!